E' un sogno che si realizza, un'emozione unica che rimarrà indelebile per tutta la mia vita e nel mio cuore. Una gioia incontenibile perché è stata la conclusione per me di un passaggio, di un percorso durato tanti anni. Finalizzato sempre all'Olimpiade e a raggiungere questo traguardo. Può correre in uno stadio olimpico con tantissime persone a guardarti, avere milioni di occhi addosso sia in televisione che sugli spalti. E' difficile da spiegare, però è stata un'emozione anche quella unica. Diciamo che adesso che si è concluso questo quadriennio dove ho fatto mondiali, europei, olimpiadi e tutte le varie manifestazioni, il mio obiettivo per il futuro è cercare di allungare le distanze, quindi provare non più i 1500 metri, ma provare a avere nuovi stimoli sui 5000 per essere anche maggiormente competitivo a livello internazionale.